Allora, ad anno 1 mi tocca raccontare la settimana di campagna elettorale e quindi cominciamo. Giovedì 1 maggio, festa dei lavoratori, infatti hanno festeggiato veramente in pochi, al concertone dei sindacati lo sberleffo di Piero Pelù innesca un dibattito di bruciante attualità, non sul record dei disoccupati che crollano in tutta Europa ma in Italia no, bensì sulla loggia P2 perché Pelù chiama Renzi Boy Scout di Gelli, Renzi replica che ovviamente lui non c'entra perché la P2 fu scoperta e sciolta quando lui aveva 6 anni, la Picerno dice che Pelù è un milionario quindi non può parlare, il PD Carbone chiede quanto l'hanno pagato quindi se prende soldi per lavorare non può parlare, il PD Anzaldi invoca la Gicome e la vigilanza contro il Tg3 che ha mandato in onda il concertone notoriamente ostile al PD, la Moretti dice che i cantanti devono cantare e basta, quindi Pelù doveva dare del piduista a Renzi ma in musica. Altri renziani insinuano che Renzi ha cacciato Pelù dall'estate fiorentina dunque ce l'ha con lui, dunque non deve parlare, tacciono Berlusconi e Cicchitto, forse perché della P2 avevano le tessere 1816 e 2232 e così tutti si dimenticano che entrambi stanno sostenendo le riforme di Renzi. Venerdì 2 maggio i tecnici del Senato bocciano le coperture del decreto sugli 80 euro, Renzi risponde che ce l'hanno con lui perché vuole abolire il Senato, la Camus ce l'ha con lui perché le controlla le spese e poi è invidiosa perché lui dà gli 80 euro ai lavoratori e lei no, manco li mettesse di tasca sua fra l'altro. Così i tecnici del Senato, la Camus e Piero Pelù entrano anche loro di diritto nello zoo dei nemici della rivoluzione renziana, zoo già popolato da gufi, sciacalli, rosiconi, soloni, professoroni, miliardari, conservatori. Renzi stasera è qua e quindi risponderà sicuramente come si fa a criticare le incredibili intolleranze soprattutto negli ultimi giorni di Grillo e dei grillini contro i giornalisti se poi a ogni critica invece di rispondere sul merito delle osservazioni si replica con le scomuniche alla maniera berlusconiana, con l'aggravante che i grillini per il momento la RAI non la controllano mentre il PD un pochino sì. Ma andiamo avanti. Carlo De Benedetti, editore di Repubblica, lancia Piero Fassino come nuovo capo dello Stato. Napolitano si gratta naturalmente ma si gratta anche Fassino ben conscio di quello che può accadere ai candidati del Partito di Repubblica. Però nel grattarsi Fassino tiene libero un dito della mano, non si sa mai potrebbe sempre servire. Sabato 3 maggio non c'è politica, sabato 3 maggio è la giornata di Jenny Acarogna con le autorità politiche e sportive impassibili, anche ammirate, spettatrici di questo decisionista, proprio un uomo del fare, che risolve la situazione. domenica 4 maggio. Fassino viene contestato dai tifosi del Torino e usa quel famoso dito, quello medio, come sappiamo. Anche lui dopo Formigoni, la Sant'Anchè, la Russa, Bossi e Berlusconi è passato al digitale. Ecco, questo è importante, ma alle prime voci su quel gestaccio incarica l'ufficio stampa del Comune di vergare una dura smentita. Contrariamente a quanto pubblicato dal sito toro.it non ho rivolto alcun gesto offensivo ai tifosi del Torino. E poi dichiara alla stampa, gestacci, ma figuriamoci, ho solo fatto una battuta. Purtroppo qualcuno aveva filmato la scena e il video ha fatto il giro del web. E allora lui, con mossa agile, ha smentito la smentita. È vero, ho fatto quel gesto, ma non mi scuso perché hanno offeso la mia mamma. Nessuna scusa nemmeno per avere mentito ai cittadini e nemmeno per avere indotto il suo staff a mentire. Anzi, aggiunge, non porgo l'altra guancia. Se mai l'altro dito, ma l'altra guancia che c'entra. Però non tutti i mali vengono per nuocere perché forse ci siamo risparmiati Piero Fassino al Quirinale. Anche perché è difficile immaginarselo che passa in rassegna le truppe all'altare della patria il 2 giugno con il dito alzato. I 5 stelle protestano vibratamente. Loro sono proprio i Lord Brummel della democrazia e quindi tutto possono tollerare tranne turpiloqui e volgarità. Quindi Fassino che vada a fare in culo è quel dito che se lo metta dove sappiamo. Insomma, ha ragione Grillo. Il PD gli sta copiando il programma proprio pezzo per pezzo. Lunedì 5 maggio il governo annuncia linea dura contro i tifosi e i violenti. Dal Viminale giunge voce del DASPO a vita per tenere fuori per sempre dallo stadio i violenti. Forse al Viminale non sanno che il DASPO c'è già, ma a vita è incostituzionale. Soprattutto una nuova legge per arrestare chi gira armato di spranghe e catene. Sarà anche severamente vietato sparare ai tifosi e massacrarli di botte, come se oggi fosse consentito. Intanto la Commissione europea ritocca al ribasso le previsioni di crescita dell'Italia. Appena più 0,6% per il 2014. Segno che gli 80 euro, l'obolo di Matteo, sono una buona cosa perché comunque è meglio di un calcio nel sedere, però non sono questo grande shock. Ma anche i tecnici europei sono euro gufi, euro rosiconi, euro sciacalli e finiscono anche loro nello zoo dei nemici. Lo shock funziona su una sola persona in Italia. Pina Picerno che con 80 euro riesce a fare la spesa per ben due settimane. Adesso quindi si ridurrà lo stipendio a 160 euro al mese perché tanto le basta. Pina a risparmiusa dopo Jenny a Carogna. Martedì 6 maggio, feroce decisione dei giudici di Milano. Siccome Berlusconi continua a insultare i magistrati, lo puniscono duramente, vietandogli di andare a Bari per un comizio e a Roma per registrare i programmi dell'annunziata di Porro. Così lui si collega con Bari in videoconferenza e registra i programmi da Milano e non cambia assolutamente niente. Lì naturalmente insulta i giudici, insulta anche Grillo, dice è come Hitler e qui lo dice con una punta di invidia proprio. Poi lancia tre minacce gravissime. Primo, ho una sorpresa per gli anziani malati di Alzheimer. Qui non vogliamo immaginare qual è la sorpresa ma un brivido corre comunque nella schiena. Secondo, voglio la Repubblica presidenziale. Terzo, se si candida Marina con me, io e lei asfaltiamo tutti. E lui di asfalto, come è noto. Se ne intendi, insomma è tutto nella norma tranne un dettaglio che dall'annunziata si presenta con delle scarpine tacco 12 per sembrare più alto, solo che poi l'annunziata gli fa l'intervista da seduto e quindi non serve assolutamente a niente. Grillo intanto si fa intervistare da Sky, paragona Renzi a Jenny a Carogna, poi tratta con Vespa per un'ospitata porta a porta per dare una svecchiatina all'immagine del movimento e Vespa commissiona subito un plastico del vaffanculo. Renzi replica a Berlusconi sul presidenzialismo e dice ne possiamo parlare ma più avanti, cioè dopo le elezioni. Prima è meglio che gli elettori non sappiano. Pelù ha un dubbio, dice che avessi ragione io sulla P2. Si scopre intanto che Cuffaro, detenuto per favoreggiamento alla mafia, riceve dallo Stato un vitalizio di 6.000 euro al mese. Roba che la Piccerno con 6.000 euro al mese ci campa 1.125 giorni pari a tre anni abbondanti. Almeno però in Europa non ci potranno più accusare di torturare i detenuti, almeno uno, lo trattiamo benissimo. Arriva in Senato la riforma del Senato. È così convincente che la maggioranza del Senato preferisce votare un ordine del giorno di Calderoli, che è veramente tutto dire, anche perché Renzi ha minacciato o votate la mia di riforma o me ne vado, il che ha aumentato l'acquolina in bocca in una discreta parte del suo partito. La Finocchiaro e la Boschia a quel punto si attaccano al telefono e chiamano Berlusconi e i suoi e scatta il soccorso azzurro. Forza Italia salva la riforma, il governo e Renzi, il quale commenta tutto stupito, Berlusconi lo vedo confuso, cambia spesso idea. Ma va? Ma quando l'ha scoperto? Mercoledì 7 maggio. La Finocchiaro, che la sera prima trattava con Berlusconi sul Senato, si sveglia con lo sdoppiamento di personalità. Va a Napoli e testimonia il processo per la compravendita dei senatori contro Berlusconi e dice ha tentato di portarne via due anche a noi. Adesso però Berlusconi sta restituendo il riscatto a rate, diciamo, al Partito Democratico, perché lui il DASPO l'ha ricevuto da diverso tempo, però è come se fosse ancora allo stadio a Cavalcioni sulla grata della curva. Silvio Afrode, padre costituente.